Si avvicina il test amichevole contro la polisportiva Lioni che si svolgerà domani alle ore 17.30 presso lo stadio Nino Giorlano del Comune di Lioni. I bianco-verdi di Mister Taurino affronteranno la squadra allenata dall'ex calciatore dell'Avellina Antonino Marrasco dove avranno modo di effettuare una sgambata contro una formazione di eccellenza. Sicuramente dopo le ultime due amichevoli non proprio brillanti sotto l'aspetto dei risultati la squadra del tecnico Leccese dovrà dimostrare dei passi in avanti su alcuni movimenti difensivi e offensivi. In effetti dopo la seduta video di ieri ai calciatori sono stati evidenziati gli errori che hanno portato al gol della casertana nell'amichevole giocata al Partenio e anche alla mancanza di cattiveria sottoporta da parte dell'attacco Reo di aver sprecato troppe palle gol sia dai piedi di Bernardotto sia da quelli degli esterni offensivi. In effetti questa mattina si è data continuità a quanto fatto ieri in sala video con attenzione ai movimenti difensivi e a quelli dei centrocampisti chiamati ad un ruolo di primo ordine. Sicuramente Taurino può contare sul rientro di Marcone, Canutè, Rizzo e Murano che hanno recuperato dei problemi fisici evidenziati nei giorni scorsi. In particolare c'è stato un sospiro di sollievo sull'attaccante ex Perugia che ha subito un infortunio meno grave del previsto scongiurando delle vere e proprie problematiche per l'attacco. Il lavoro tecnico-tattico che si sta svolgendo al Partenio vuol far sì che l'Avellina arrivi al 4 settembre data in cui dovrebbe iniziare il campionato con una consapevolezza maggiore sui piani di gioco una squadra capace di giocare rapidamente il pallone con meno tocchi possibili ma con maggior movimento soprattutto da parte dell'attacco. Nell'intanto che continuano gli allenamenti la dirigenza bianco-verde osserva il mercato sondando alcuni profili che potrebbero fare a casa del mister soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. Fare nomi in questo momento non aiuta dato che le intenzioni di mercato cambiano radicalmente ma certamente si darà conto delle liste di serie B che vedrà molti calciatori non rientrare nei progetti di alcune formazioni e campionato cadette e magari farà il caso dell'Avellino.